Dopo che non si è trovato un accordo in Parlamento sulla legge riguardante il Revenge Porn, ossia la diffusione per vendetta di immagini sessuali private, l'apertura sul provvedimento arriva direttamente da Giuseppe Conte. La settimana prossima il Parlamento sarà chiamato a votare le norme sul Revenge Porn. Si tratta di condotte indegne che offendono la dignità della persona, il più delle volte donna, e violano le più elementari regole di convivenza civile. Ha scritto su Facebook il Presidente del Consiglio Una battaglia di civiltà deve trovarci tutti uniti, sottolinea contro gli incivili.